Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Leonardo Bardazzi. In Fipili per lavori ci sono 3 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare e 2 km di coda in direzione Firenze. In A1 per lavori un km di coda tra Firenze Sud e Impruneta in direzione Bologna, code anche all'uscita Impruneta per chi proviene da Bologna. Sempre in A1 traffico rallentato per traffico intenso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze. E ancora in A1 traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1, variante di valico Baccheraia in direzione Bologna. In A12 tra l'allacciamento con l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno, code a tratti per traffico intenso. In A11 traffico rallentato tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!